In testa al momento due atlete di Nasa In testa al momento due atlete di Nasa In testa al momento due atlete di Nasa Sul passaggio campana e dal prossimo giro punti Nasa Allora In testa al momento due atleta di Nasa Torna di testa, le atlete di casa, punti, numero 20, 8, 3, 8, 2, 9, 4. 8, 3, 8, 7, 5, 7, su un passaggio di meno 19. Guarda la nuova, ha guadagnato 4 metro sulle inscrevici, sempre nuovo, 7, 5, 7, 8, 3, 8. Il gruppetto di testa ha aumentato di numero ma ha acquisito più vantaggio sull'inseguitore. 838757 sul passaggio di 116 838259 io sono davanti, però dai per l'altro non c'è nessuno in questo momento l'ordine dell'Ottomo 252 punti di meno 14 757 e 252 il momento del gruppo di testa è formato da 4 persone l'atleta 38 e 741 ammonito 757 e 252 ai punti di meno 13 38 38 seconda munizione entra in divina 838 e 757 seconda munizione passaggio di 116 e che po' continua l'atleta 38 salone com 8 551 desiderato a 10 a 10 cilberterne 757 8 38 8 10 suici la ha ancora di più tenta attacchi l'atleta decantù 252 e 7, 5, 7, sul passaggio di meno 9. 8, 3, 8, il 7, 5, 7. 8, 3, 8, il 7, 5, 7, sul passaggio di meno 7. 8, 3, 8, il 7, 5, 7, 5, 7, 8, 3, 8. Sul passaggio di meno 5, 7, 5, 7, 5, 7, 8, 8. Si inverno a questo giro, 8, 3, 8, 7, 5, 7, sul passaggio di meno 8. Su meno 3, 7, 5, 7, 8, 3, 8. 8, 3, 8, 7, 5, 7, a 2 giri dal termine. Sul prossimo passaggio, campana e ultimo giro. 9, 8, il 7, 5, 7, sulla campana. 8, 4, 4, 1, 8, 4, 1, 8, 5, 6, 6, 7, 4, 1, 8, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 7, 9, 9, 9. la gara finisce il ruolo a destra vada in traguardo